Inaugurato a Casoria il Lord Up, un classico pub inglese nella provincia a nord di Napoli, un locale che farà tendenza tra i ragazzi dell'Interland partenopeo. L'idea è nata tra due amici imprenditori e più di Peppe che mia l'idea, quindi è una cosa che poi abbiamo portato avanti insieme e abbiamo creato questo English Pub per fare in modo che i ragazzi, i giovani, restassero qui a Casoria e creare qualcosa di culturale, sociale e di divertimento. E creare soprattutto qualcosa che a Casoria non esiste e che non esiste soprattutto nelle zone limitrofe, creare qualcosa per i ragazzi, un po' per tutti, qualcosa di estremamente particolare. Grazie a tutti!